Con l'insediamento della sezione di Bolzano è stato completato uno dei disegni riformatori più importanti degli anni 90, l'integrale decentramento della giurisdizione contabile nelle diverse regioni. Così il neo eletto presidente della sezione giurisdizionale della Corte dei Conti, Paolo Neri, ha aperto la cerimonia ufficiale di inaugurazione dell'anno giudiziario a Palazzo Mercantile, un'occasione per celebrare anche il primo decennio di operatività sul territorio della provincia, partito con la prima odienza pubblica del 21 di settembre del 2000. Il 2010 chiude sostanzialmente senza alcun arretrato la situazione giurisdizionale sia per quanto riguarda il settore della responsabilità che per quello pensionistico. I dati statistici parlano anche di 27 cause avviate, 13 sentenze di condanna, 14 processi conclusi con una sentenza, una sola la soluzione. A questo si aggiungono i quasi 171 mila euro erogati su disposizione della Corte per le richieste di rimborso. Sulla bocciatura della legge provinciale Omnibus, in cui rientra anche la norma sull'obbligo di denuncia alla Corte dei Conti, in ipotesi di irresponsabilità amministrativa del personale pubblico, i magistrati contabili si sbilanciano poco, anche se il presidente ha poi sottolineato come l'obbligo dei reclami sia in ogni caso il principio fondante di ogni buona amministrazione. Esistono degli organi che sono deputati all'esame di costituzione, l'esame di eventuali profili di incostituzionalità delle norme e hanno ritenuto nel caso specifico di avviare questo procedimento presso la Corte Costituzionale. Restiamo in attesa degli esiti di questo procedimento e applicheremo le norme così come saranno giudicate. La denuncia è uno dei cardini dell'azione della Corte dei Conti. È chiaro che qualsiasi norma comprima, limiti, questo dovere di denuncia alla fine finisce per influire sul nostro lavoro e anche pesantemente. Occorre vigilare sul buon uso del denaro della collettività, ha proseguito nel suo intervento il procuratore regionale Fausta Di Grazia, tra le proposte del magistrato contabile e potenziamento dei poteri d'indagine associato ad un ampliamento dell'organico, ma anche una consolidazione dell'autorevolezza della Corte dei Conti in relazione al futuro sviluppo federale della Repubblica italiana.